Ciao a tutti e bentornati su paolodetrane.it Come promesso oggi facciamo la recensione del nuovo Microsoft Lumia 950 Ho dovuto fare già tre volte l'intro perché continuo a chiamarlo Nokia Lumia Microsoft proprio non riesce a uscire dalla mia bocca Ma adesso sono 20 giorni più o meno che ce l'ho che lo sto usando come telefono insieme al mio Asus Però lo sto usando molto, ho fatto molte foto, ci ho telefonato, l'ho usato in tutti i modi possibili e immaginabili Giusto per capire quanto questo Windows 10 fosse davvero funzionale e quanto invece fosse immaturo Devo dire che per adesso è promosso sulla fiducia Non mi voglio pronunciare, il telefono mi piace tantissimo Veramente un prodotto interessante, molto interessante sia l'hardware che la parte software Diciamo che nell'insieme l'ecosistema Microsoft è interessante, è un bel progetto È ancora un po' da sviluppare Ci sono diverse pack e le vedremo insieme ma soprattutto come al solito Non sarà una recensione su Windows 10, non sarà una recensione a tutto tondo sul telefono Ma piuttosto andremo a vedere la parte fotografica che è quella che ci interessa di più Bene, vediamolo più da vicino Ecco qua, più da vicino il Lumia 950 Ad ora in poi lo chiamerò solo Lumia Niente Nokia, niente Microsoft Così sono sicuro di non sbagliarmi Questo telefono mi ha interessato, mi ha colpito fin da quando è uscito E speravo proprio di riuscire ad averlo Ce l'ho tra le mani e vi leggo veramente, testualmente vi leggo un po' di caratteristiche Giusto per farvi, per darvi un'idea di che tipo di dispositivo è davanti a voi Ha un processore Snapdragon 808 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna con memoria espandibile SD E questo è già un Pro L'altra cosa, batteria è 3000 mAh E guardate un po' cosa è possibile fare Sì signore e signori Ecco qua È possibile cambiare la batteria Un super plus per Microsoft Iniziamo bene Qua vediamo la micro SD e sotto la nano SIM Che si possono andare a inserire per espandere la memoria Rimettiamo la cover che è un po' plastichetta ma non troppo Questo feeling diciamo Il feeling, il touch and feel Chiamiamolo così Tra le mani non è assolutamente malvagio A me non dispiace, non è troppo scivoloso E la fotocamera dà un buon riferimento per capire In che verso abbiamo preso il nostro telefono dalla tasca per esempio Ma continuiamo con alcune caratteristiche Che pesa solo 150 grammi È alto 145 mm Largo 73,2 e spesso solamente 8,2 mm Lo schermo è un 5 pollici e 2 Bene, detto questo andiamo a sbloccare E vedete che quando passo dalla schermata di blocco allo sblocco Mi dice che sta cercando la mia faccia Se io lo avvicino al mio viso Adesso c'è la telecamera in mezzo Spero di riuscirci Ecco qua, si ha funzionato Lui riconosce il mio viso e i miei occhi Dopo averli registrati E si sblocca senza dover inserire il pin Funziona abbastanza bene questa funzionalità Anche se non è perfetta Direi 7-8 volte su 10 ci azzecca Le altre 2-3 Io porto gli occhiali Giusto per chi si chiedesse se funziona oppure no con gli occhiali Si funziona con gli occhiali Ha un po' di problemi invece con gli occhiali da sole E questo è il nuovo Windows 10 Per questo mi interessava questo dispositivo Perché è il primo cellulare, il primo dispositivo Microsoft Che utilizza Windows 10 E devo dire che Windows 10 mi ha convinto veramente molto Mi piace molto È ancora Sherbo, soprattutto in alcune applicazioni Ma i presupposti per creare qualcosa di innovativo ci sono tutti Microsoft infatti ha puntato su questo nuovo ecosistema E quindi sulle Universal Apps Cioè applicazioni che vanno bene sia su questo telefono Che sul PC Vedete che le impostazioni sono le stesse che trovate su Windows 10 Del vostro normalissimo PC di casa Ci sono diverse impostazioni interessanti Per esempio sul schermo Si possono regolare la luminosità E quello Diciamo che la luminosità automatica funziona molto bene Blocco rotazione eccetera Una delle funzionalità più interessanti è proprio la dimensione del testo Possiamo andare a regolare la dimensione del testo Piccolo oppure grande Ci sono quattro diverse misure Anche se una volta cambiata questa impostazione Dobbiamo riavviare il telefono perché diventi effettiva Ma l'ho trovata molto interessante C'è da dire questo Sicuramente ci sono applicazioni come Whatsapp Che funziona molto bene Ci sono applicazioni come per esempio Instagram Che ancora non sono assolutamente all'altezza di Android o iOS Sono ancora molto acerbe Ancora non permettono di fare tutta una serie di cose Che invece sono possibili da tantissimo tempo Sia su Android che iOS Lo stesso Facebook non è all'altezza diciamo di Android Per non parlare delle applicazioni che mancano Snapchat, Periscope, per gli appassionati eccetera Questo è un po' il Neo che ancora ha Windows 10 Mobile Ma Windows 10 in generale Le Universal App ancora non sono tutte sviluppate E quelle che ci sono non funzionano ancora Non sono ancora all'altezza di Android o iOS Per le opzioni e le possibilità Diciamo l'integrazione nell'utilizzo Twitter eccetera Ci sono tutte, funzionano Ma non sono sicuramente all'altezza della concorrenza Mentre le applicazioni Microsoft Come Excel, Word, OneNote, PowerPoint Funzionano in maniera perfetta Funzionano davvero molto bene Non c'è paragone su Per esempio rispetto ad Android o iOS Funzionano molto meglio su questo telefono Che sugli altri I 3 GB di RAM sono più che sufficienti Per muovere in maniera molto fluida Questo telefono Ma bando alle sciance Io so che voi volete vedere la macchina fotografica E lì voglio portarvi Allora innanzitutto parliamo di questo Di questo obiettivo Sono È un obiettivo Zeiss a 7 lenti Con stabilizzatore di quinta generazione Quindi stabilizzatore ottico di quinta generazione Funziona davvero in maniera eccellente E 20,3 megapixel Dichiarati da Microsoft E in effetti lo sono Anche se è un sensore 4 terzi Quindi se decidete di fare le foto in 16 noni Vi accorgerete che potete scattare a 16 megapixel Mentre avete visto il led a 3 toni Davvero eccezionale Funziona benissimo Veramente molto bene Il miglior flash che ho provato su un cellulare fino adesso E il microfono qua L'altro microfono qua L'altro microfono qua davanti Ci sono 3 microfoni Scusate qua davanti 3 o 4 microfoni Un'infinità di microfoni su questo telefono Che lo rendono nei video davvero molto funzionale L'altra figata di Microsoft Di questo Lumia Che per fortuna Microsoft ha mantenuto da Nokia È la possibilità di accedere alla fotocamera direttamente con il pulsante Fisico laterale E vedete che la fotocamera si accende Portiamo in campo la nostra piantina Eccola qua E vi faccio vedere Che la messa a fuoco è davvero Guardate Metto a fuoco dietro La messa a fuoco è davvero veloce E molto accurata Ho trovato che ha alcuni Diciamo tentennamenti Alcuni problemi Se vogliamo Su situazioni di che tipo Su superfici piatte Dove non c'è Dove non c'è Contrasto Quindi ovviamente non essendo una messa a fuoco laser Ha questo limite Ma come tutti gli altri telefoni Niente di più Niente di meno Bene La fotocamera funziona Vi metterò le foto Le foto di prova Nella recensione trovate il link qui sotto al sito Dove potete vederle in risoluzione completa sul sito In modo che potete veramente farvene un'opinione Ma vediamo le impostazioni Innanzitutto la fotocamera non è la stessa che c'era sui dispositivi Microsoft o Nokia Lumia con Microsoft 8.1 È molto simile ma non è uguale Infatti se la scaricate dallo store Ve la può installare Ma vi dirà Vi comunicherà che Vi consiglierà di installare questa per avere i migliori risultati possibili Ha mantenuto di bello tutte le impostazioni manuali che sono semplicissime da utilizzare Sia la messa a fuoco che il bilanciamento del bianco ISO eccetera eccetera Semplicemente spostando il pulsante in avanti E qua abbiamo la videocamera Ma vediamo prima le impostazioni Andiamo nelle impostazioni e possiamo vedere Che nelle impostazioni possiamo scegliere cosa far fare alla pressione prolungata del pulsante Possiamo decidere se attivare il video Se fare una sequenza rapida di foto oppure se disattivarla Nel mio caso è disattivata ma a volte l'attivo In questo momento io sto utilizzando la proporzione 16.9 Semplicemente perché è più bella da vedere sul display del telefono Invece di vedere le foto tagliate Anche se quando devo fare foto di qualità Seleziono il RAW E vado in 4 terzi alla massima risoluzione La massima risoluzione si ottiene solo in 4 terzi Vedete che 19 Scusate Sì Dimensione immagine 19 megapixel In 4 terzi Mentre invece se mettete 16.9 Scendiamo a 16 megapixel La messa a fuoco è in automatico E si può C'è la possibilità come in iOS Di ottenere immagini animate Quindi quando si scatta una foto Lui non farà altro che registrare alcuni frame Dopo aver scattato Per rendere animata Come una GIF animata La vostra fotografia Passiamo al video Il video Siccome questo schermo è un QHD AMOLED Di ottimissima qualità Con più di 500 dpi È possibile Sfruttare questa risoluzione Diciamo girando video Fino a Fino a 4k Scusate la mia Fino a 4k Selezionando L'opzione apposita Dalla qualità video Qui c'è da fare La prima puntualizzazione Per la mia esperienza Fatta in questi 20 giorni Ho utilizzato Questo telefono Anche in 4k Mi sono accorto Che in 4k Quando viene messo Un po' sotto stress Il che vuol dire Magari dei video In cui si Attiva e disattiva La videocamera Diverse volte in poco tempo Per esempio Il 4k diventa Un po' Scattoso Va un po' a scatti Rallenta Ma la qualità È davvero ottima Quando funziona Bene La qualità È ottima C'è questo inconveniente Che in alcuni casi Mi è capitato Di avere appunto Un video non fluido Ma a scatti In alcuni momenti E non è poi piacevole Da vedere Io pensavo Che fosse solamente In fase di ripresa Ma poi invece Andando a riguardare I video girati Mi sono accorto Che è proprio Registrato a scatti L'audio è molto buono E anche La fotocamera Frontale Di 5 megapixel Funziona davvero Molto bene È possibile inoltre Quando andiamo Nella sezione video Scegliere di fare Dei Rallenti Fino a 160 fotogrammi Per secondo Questo è un esempio Del fuoco Del camino Dai miei genitori Che ho girato ieri Giusto per farvi vedere La qualità È davvero ottima Vi inserirò Il File del video Nella sua Interezza Diciamo Il video originale Sulla Recensione Appunto Sul sito In modo che voi Possiate vederla Troverete il link Nella descrizione Del video Ma devo dire Che a livello video Ormai l'ho testato E ritestato Anche per girare il vlog E mi piace Davvero molto Sto girando Sempre a In HD In full HD Poche volte In 4K Proprio per il problema Che vi ho detto prima Mentre per quanto Riguarda la fotocamera Abbiamo Possiamo vedere Alcuni esempi Di foto che ho fatto Sono appena tornato Dalla Germania E quindi Sono stato A Stoccarda Al museo Della Mercedes E ho fatto Qualche foto Queste sono Quelle che ho pubblicato Su Instagram Qua ero Qua ero Al ristorante Pochissima luce Guardate qua Davvero Molto Bella Vi faccio Una zoomata Giusto per Vedere La mia cena Buonissima Anche qua Altra foto Al ristorante Guardate con Veramente Foto Ottime Per le condizioni Di luce Che c'erano Questo è il museo Della Mercedes Guardate qua Senza flash Con poca luce Con la mia XT1 Con la mia Fuji Mirrorless Ho fatto Sicuramente Più fatica Anche se la qualità È migliore Ma Soffre sicuramente Un pochino più La luce Rispetto Al cellulare E guardate qua La qualità Delle foto Io direi che È ottima Qua in esterni Con la nebbia Fuori Con poca luce Guardate questa foto Dell'albero di Natale Senza cavalletto Sicuramente Microsoft Ha mantenuto Ha puntato molto Sul Sulla qualità Di questa Macchina Fotografica E Devo dire Che non rimarrete Degli usi Se cercate Un dispositivo Che faccia Delle Ottime fotografie Degli ottimi video Bene Questa è un po' La panoramica Della fotocamera E torno a ripetervi Che se cercate Un telefono Con un'ottima Fotocamera Lo avete trovato Poi con La possibilità Di registrare Sia I File Video Che quelli Audio Direttamente Su SD Si può scegliere Di registrare Direttamente Su SD In modo da Da Poter poi Fare i trasferimenti In maniera più Facile possibile Vedete qua Un'applicazione Di timelapse Questa funziona Perché ci sono Alcune piccole funzioni Che non ci sono Devo dire La pecca Forse più grossa Di questa fotocamera Ma di microsoft Non di questa fotocamera È il non avere Integrata La possibilità Di fare panoramiche Bisogna scaricare Un'applicazione A parte E io devo dire La verità Nessuna di quelle Che ho provato Mi ha entusiasmato Mentre invece L'hdr C'è E funziona Molto bene Timelapse C'è questa applicazione Proprietaria Di microsoft Che funziona In maniera Davvero eccellente Ne ho fatti diversi Mi sono Mi sono trovato Molto bene Basta Io credo Di avervi detto tutto Non voglio tirare Per le lunghe Sicuramente Magari farò Uno special Su windows 10 Perché vale la pena Approfondire Vedere Più Approfonditamente Le caratteristiche Le qualità I pregi I difetti Di questo nuovo Sistema operativo Di microsoft Che promette Molto Devo dirvi anche Che l'altra figata Di questo Telefono Forse Forse uno specchietto Per la lodole Forse no O forse si Si tratta di continuum Un dispositivo Che viene fornito Separatamente Che costa al momento 100 euro Comunque Che permette Di trasformare Il microsoft Lumia 950 In un vero E proprio PC Da collegare A uno schermo A una tastiera E un mouse E poter utilizzare Grazie alle Universal App di microsoft Proprio questo dispositivo Collegato A un televisore O a uno schermo Come un vero E proprio PC Perché dico Che forse È uno specchietto Per le lodole Perché non so Quanti sarebbero Disposti a rinunciare A un vero E proprio Laptop In favore Di questo Cellulare Che comunque Ha dei grossissimi Limiti dal punto Di vista hardware Quando Si possono riprodurre Video in hd Si può Navigare su internet Si può controllare La posta Lavorare su excel Word E questo per molti Potrebbe essere Una figata Per esempio Mi vengono in mente I rappresentanti Mi vengono in mente Tutti coloro Che fanno lavoro Di ufficio Quindi non hanno Particolari esigenze Per esempio Come me Che ho sempre bisogno Di potenza 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 Per poter Post produrre Foto e video Ma a livello basico Potrebbe essere Un'idea davvero Interessante Credo che In un Non lontanissimo futuro Si ha Diventerà la normalità Utilizzare Il cellulare Come unico dispositivo Da collegare Eventualmente A uno schermo Esterno Ma questo lo dico io Che può dire Se è davvero La verità Oppure no Bene Vi ringrazio Per essere stati Ancora con me Aver avuto La pazienza Di sopportarmi Se vi è piaciuto Il video Fate un like Commentate Nella sezione Qui sotto Vi metto il link Alla recensione Completa Sul sito Dove troverete Le immagini E i video In formato originale Nel frattempo Ciao Alla prossima